Ciao a tutti cari ascoltatori meteo, bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un mi piace e iniziarci a seguire per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. Bene, inoltre il 78% di voi guardano se il video ma non è scritto. Per voi è un piccolo gesto ma per noi è di fondamentale importanza. Detto ciò andremo a parlare dell'irruzione dell'aria fredda inizio febbraio. Molti dicono che l'inverno è finito ma non è vero. Proprio ce lo dice già il vortice polare. Come abbiamo visto nella giornata di ieri il vortice polare è in difficoltà ma questo è già da un po' che è un po' sfatto. Andando proprio nei prossimi giorni già da qualche uscita dei modelli di circa 3-4 volt di fila iniziano a vedere verso il 5 di febbraio una possibile eruzione fredda. Già a partire tra il 30 e il 31 aria fredda nuovamente di origine artica scenderà verso i Balcani portando una lieve diminuzione termica soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Questo non sarebbe però ancora di grande entità perché il vero cambiamento ci sarebbe a partire dal 2 febbraio. Quando proprio da qui una massa di riageri da origine artica si sposterebbe verso la nostra penisola. Andrebbe e scende verso i Balcani fino a vestire la nostra penisola colpendo soprattutto le regioni centrali e centro-settentrionali come possiamo vedere da queste immagini con termiche fino a meno 10 gradi a 1500 metri. Questo a me però stando agli ultimi aggiornamenti non sarebbe accompagnato da precipitazioni quindi solo aria fredda quindi senza nevicate o al massimo qualche rovescio nevoso a bassissima quota in pianura sulle regioni centrali. Questa aria fredda poi dovrebbe comunque stazionare su Balcani influenzare soprattutto il clima del centro-sud Italia soprattutto anche la zona adriatica. Non verrebbero escluse le nostre due isole maggiori dove anche qui le temperature scenderebbero molto molto basse e addirittura forse anche più basse rispetto a quello che sono scese qualche giorno fa. Vi ringraziamo della visione e invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale lasciare un mi piace e iniziarci a seguire per non perderevi nessun nuovissimo aggiornamento meteo.